Come nasce il convegno? Questo mi sembra che sia la cosa che come centro di servizi sia più importante da sottolineare. Noi abbiamo insieme agli altri centri di servizio della regione Emilia Romagna concepito un progetto anche insieme al Comitato di Gestione per riflettere e quindi cercare di intervenire come associazione di volontariato rispetto al tema del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che purtroppo in questi anni si è molto aggravata come tutti sappiamo sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale con una serie di riletture del sistema di welfare che vanno sostanzialmente in buona parte a penalizzare e a ridurre gli interventi specialmente per le fasce più deboli della popolazione. Questo chiede un impegno a tutte le associazioni di volontariato e ai centri di servizio che in qualche modo su questo cercano di intervenire anche costruendo reti con le associazioni e comunque promuovendo riflessioni e iniziative apre un ragionamento sul quale non possiamo far finta di disinteressarci perché è un po' il cuore di buona parte di volontariato tutto quel volontariato che si muove nell'ottica del sociale. Su questo quindi abbiamo fatto un intervento che si è articolato sostanzialmente su tre linee una sui beni relazionali che è appunto il problema di costruire rapporti con le persone che in questo momento più hanno difficoltà, una sul versante del lavoro sul quale naturalmente come associazione di volontariato è molto difficile muoverci ma rispetto al quale comunque riteniamo di poter dare un contributo specialmente cercando di avvicinare al mondo del lavoro le persone più emarginate e il terzo sui beni alimentari e quindi sulla necessità comunque di provare a garantire per tutte le persone che in difficoltà si trovano la risorsa cibo insomma che poi è un elemento evidentemente rilevante. Ecco il convegno che abbiamo in programma per il 16 è appunto su quest'ultimo filone rispetto al quale ci sono molte iniziative interessanti alcune già fatte, alcune già portate avanti sia dal mondo cattolico con le Caritas ma anche da associazioni rilevanti che saranno in parte anche quelle che parleranno tipo l'esperienza del Last Minute Market, tipo l'esperienza del Banco Alimentare che sono esperienze anche molto diformi tra di loro che però hanno sostanzialmente una ricaduta molto positiva sull'aspetto che riguarda la possibilità di avere risorse da destinare a persone in difficoltà. Ecco questo è un po' sostanzialmente il tema del convegno e su questo dopo tutti gli interventi cercherò di creare delle conclusioni che abbiano anche qualche ricaduta pratica.